Oggi siamo stati al Centro Culturale di Kobilka, in Polonia, dove bambine e bambini ucraini possono frequentare attività recreative come corsi di musica, di danza, di arte. Noi di Terdesomi, insieme alle associazioni locali e alla municipalità, stiamo facendo il possibile per garantire continuità a questi servizi e per dare supporto psicosociale ai bambini e alle bambine. Grazie a tutti voi che ci state supportando. Ogni donazione è preziosa per continuare ad aiutare i bambini e le bambine ucraine. Grazie a tutti.